I carabinieri della stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà la procura della Repubblica verso il Tribunale di Palermo due sessantenni palermitani gravemente indiziati del reato di tentata truffa aggravata nei confronti di un pensionato di Monreale. I due uomini già indiziati per regressi e analoghi episodi delittuosi, dopo aver individuato la loro vittima con artifici e raggiri, gli avrebbero fatto credere di poter concludere un conveniente affare per l'acquisto di diamanti, grazie all'intermediazione di un finto esperto di gioielli francese. Carpita la fiducia del pensionato, i due lo avrebbero poi persuasi a recuperare tutto il denaro contante necessario a finalizzare l'imperdibile compravendita. L'anziano, per prelevare il denaro occorrente, avrebbe quindi deciso di recarsi al locale ufficio postale dove ha sede nelle vicinanze la sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale. È proprio lì che il pensionato si sarebbe fermato per salutare il presidente della sezione in quel momento presente in sede raccontandogli dell'affare che da lì a poco avrebbe concluso con i due fantomatici esperti di gioielli conosciuti poco prima. Il carabinieri in congedo, intuita immediatamente la potenziale truffa in atto a danno del suo interlocutore, ha allertato immediatamente i militari della stazione di Monreale fornendo importanti dettagli sull'appuntamento che la vittima avrebbe avuto a breve per la consegna del denaro e indirizzandoli sul preciso obiettivo. Grazie alle indicazioni ricevute i militari sono riusciti a identificare gli indagati poco dopo che gli stessi avevano fatto salire a bordo di un'auto la loro vittima e prima che l'uomo potesse loro consegnare il denaro. I due uomini sono stati trovati in possesso di un anello con pietre e un certificato di garanzia di diamanti il tutto falso.